Il Bergamotto, prodotto Principe della Calabria, trova spazio nelle interviste di eccellenza di Liberi TV e lo troviamo in una zona un po' desueta perché ha conquistato la rampa Mignanelli a Piazza di Spagna a Roma, proprio attraverso un punto di degustazione e vendita di questo prodotto eccellente. In compagnia del Dottor Giordano siamo qui per parlare delle caratteristiche di questo prodotto. Sì, buonasera. Noi abbiamo questo punto vendita che mi piace definire più una boutique del Bergamotto, soprattutto con un utilizzo in enogastronomia. Il Bergamotto come sappiamo è un agrume tipico della zona di Reggio Calabria e provincia, infatti cresce in una fascia costiera della provincia di Reggio Calabria. In questa fascia costiera si è creato un microclima particolare che ha favorito lo sviluppo e la nascita di questo agrume che è fiore all'occhiello della nostra terra, la Calabria. Zona Ionica per eccellenza, però raccontiamo proprio un po' le stagioni del Bergamotto, quando si raccoglie. Allora, di solito la raccolta avviene tra ottobre, novembre, massimo fino a marzo. La raccolta è molto lunga nel tempo e si producono una serie di prodotti, magari è conosciuto sia per l'utilizzo in cosmesi, in profumeria, abbiamo i profumi di Bergamotto, abbiamo giù in Calabria circa 1.500 ettari, dove si produce questo oro verde della nostra terra e abbiamo una produzione di circa 100.000 chili l'anno, con una produzione di circa, per fare un chilo di essenza di Bergamotto ci vogliono circa 200 chili di frutto, quindi è abbastanza importante diciamo come produzione e come estrazione dell'essenza. Un prodotto che giustamente il dottor Giordano ha definito l'oro verde, intanto perché è estremamente prezioso e intanto perché per ottenere anche poche gocce di quella preziosa essenza che è alla base di quasi tutti i profumi, ebbene ci vuole tanto tanto prodotto e quindi tante braccia che poi lo possano raccogliere, ma questo veicola naturalmente anche del lavoro. Allora, parliamo dell'utilizzo del Bergamotto, lei ha accennato già giustamente in parte per i profumi, ma soprattutto anche nel reparto farmacologico per alcune patologie non gravi naturalmente, poi passiamo invece al reparto gusto e al reparto cucina. Cominciamo da questa caratteristica del Bergamotto di essere ricco di polifenoli. Sì, infatti il Bergamotto è ricco di, come accennavamo prima, di polifenoli, è praticamente un fortissimo antiossidante e c'è un grande utilizzo anche in quello che è l'ambiente farmacologico, sia per la cura di alcune malattie come la psoriasi, viene utilizzata anche per la cura e l'affievolimento più che altro dell'apsoriasi. Ci sono anche degli studi particolari, addirittura anche per la cura e comunque il trattamento dell'AIDS, quindi anche sotto questo aspetto abbastanza importante ci sono studi scientifici che hanno dimostrato anche delle caratteristiche atte a affievolire anche questi tipi di malattie. Però la cosa che in questo momento noi stiamo promuovendo di più e praticamente stiamo sfatando il mito dell'essenza utilizzata soltanto in cosmesio, soltanto in ambito farmacologico, quello che stiamo promuovendo noi è un discorso dell'utilizzo del bergamotto in enogastronomia. Infatti il produttore che ci permette di stare in questa meravigliosa cornice, il professore Caminiti, è stato il principale artefice dell'utilizzo del bergamotto in enogastronomia attraverso un discorso di produzione e di studi anche scientifici atti a dimostrare che comunque il bergamotto è molto molto utilizzato anche in cucina. Faccio qualche esempio, dalle melasse dalla parte dolce fino alla parte salata, dalle melasse, addirittura abbiamo una produzione di miele al bergamotto, abbiamo una produzione di mandorle in melassa di bergamotto o pistacchi di bronte in melassa di bergamotto. Quindi questo trattunion tra la Sicilia e la Calabria, i pistacchi di bronte con la melassa lavorato in melassa di bergamotto. Quindi diciamo una produzione sul dolce abbastanza importante, ma anche sul salato. Noi abbiamo la anduja tipicamente calabrese, questo prodotto abbastanza piccante calabrese che viene lavorato. Abbiamo due tipi di anduja che vengono prodotti, anduja di suino affumicato in un legno di bergamotto o l'anduja di pesce spada sempre affumicato in un legno di bergamotto. L'utilizzo in enogastronomia, in cucina, ha permesso uno studio anche su un discorso di colesterolo, infatti è una cosiddetta bomba anticolesterolo il bergamotto. E quindi diciamo è utilizzato anche nel gusto che si abbina al buon cibo e alla salute. Bravissimo dottor Giordano, tra l'altro qui abbiamo degli esempi di quelli che lei ha citato, mandorle in melassa e se non sbaglio i pistacchi proprio di bronte in melassa. Qui davanti a noi invece la copertina del meraviglioso libro curato dal professore che lei poc'anzi ha citato, il professor Caminiti, ma soprattutto ricordiamo che all'interno del libro troviamo anche uno spazio dedicato a chi del bergamotto si prende cura, una vera e propria congrega, confraternita, adesso lo descrive meglio lei di che cosa si tratta perché è un prodotto che proprio per la sua preziosità va tutelato e preservato. Certamente c'è un ente che è l'Accademia del Bergamotto che promuove sia gli studi scientifici sia i personaggi che si sono distinti in ambito scientifico, imprenditoriale, di produzione, proprio per la diffusione della cultura del bergamotto. Quindi ogni anno addirittura vengono dati dei riconoscimenti, ogni anno a giugno, intorno a giugno vengono dati dei riconoscimenti e vengono nominati gli ambasciatori del bergamotto che sono dei personaggi illustri, come dicevo prima, sia nel campo scientifico sia nel campo imprenditoriale o comunque accademico anche universitario, proprio che si sono dedicate, queste persone si sono dedicate alla diffusione della cultura del bergamotto sotto tutti gli aspetti, quindi diventa non soltanto un ambito scientifico e no gastronomico ma anche un ambito culturale abbastanza importante. Io dottor Giordano la ringrazio anche perché lei aiuta a far conoscere alla capitale tutti coloro che la visitano questo prodotto di assoluta eccellenza e diamo anche un appuntamento settembrino perché io so che all'interno di questo salotto vero e proprio ci saranno dei veri e propri circoli anche letterali. Insomma da settembre vogliamo lanciare anche questo argomento e quindi il salotto del bergamotto diventa il supporto anche per parlare di cultura. Certamente, da settembre abbiamo pensato di fare una programmazione di incontri, eventi, dibattiti, reading letterari sempre legati al filo conduttore che è comunque il bergamotto. Quindi cultura, enogastronomia, benessere e salute che si coniugano all'interno di questo meraviglioso salotto che mi onoro di condurre in questo momento. E di rappresentare in piena eccellenza. Allora grazie dottor Giordano. Qualcuno da ringraziare in particolare che l'aiuta nella gestione di questa boutique? Ringrazio, eh sì ci vuole, ringrazio Rossella Torino che è l'altra persona che gestisce questa boutique che si occupa diciamo della gestione proprio fisica della boutique, del punto vendita, dell'organizzazione del punto vendita. Io curo l'aspetto più relazionale di comunicazione e di eventi all'interno della boutique. Ringrazio comunque il professore Caminiti per aver creato questo circolo diciamo culturale, scientifico e del gusto e di diffondere, lo ringrazio per aver avuto l'idea di diffondere proprio la cultura del bergamotto in giro per non solo per l'Italia ma anche all'estero. E certo. Grazie e noi con Liberi TV ci auguriamo di esserci da sentervi in avanti per documentare se non tutti alcuni degli incontri naturalmente più importanti. Grazie.